Brunello di Montalcino, Castiglione del Bosco, il nostro Brunello base. Siamo nella parte sud della proprietà, esposizione sud-sud-ovest, vigneto alto, terreno misto di argilla e galestro nella parte più bassa di Capanna. Poi con il Cru vedremo che avremo delle concentrazioni di galestro più ricche. Abbiamo un allevamento a Gouillot, siamo biologici. Il nostro Brunello base, 100% sangiovese, fa un passaggio sia di barricche che di botte grande e poi finisce l'affinamento in bottiglia per uscire in commercio al quinto anno. Brunello di Montalcino, Castiglione del Bosco 2011, rappresenta il territorio e rappresenta l'annata. È un vino che è pronto da bere, è un vino che a oggi è fantastico. Nel bicchiere si presenta già equilibrato, elegante, facile da bere. Colore classico rubino con una unghiatura già un po' che tende al mattone. Al naso abbiamo nel nostro stile un frutto elegantissimo, la ciliegia, la viola, molto belli, freschi. E poi dietro la complessità che viene ovviamente dall'affinamento ma che non è mai invasiva. L'utilizzo del legno è per arricchire il bouquet, non per coprire i profumi primari. Il vino è equilibrato, facile beva, eleganza e possiamo godere tranquillamente con della pasta fatta in casa, con piatti che non devono essere per forza troppo ricchi.